Io un discorso così strampalato non l'ho mai sentito, è veramente in confusione totale, non se ne rende neppure conto, a parte non si è dimesso, cioè pur di non dimettersi realmente è disposto a frantumare quel poco che resta del Partito Democratico e cosa ne dicono? Cosa dicono a riguardo gli elettori del Partito Democratico? Io una volta lo votai pure il Partito Democratico, cosa pensano? È incredibile, a questo personaggio non gli basta mai la lezione, non impara mai nulla dal passato, sempre arrogante, non ha chiesto scusa, cioè cita come esempio di questa campagna elettorale strana il caso Cecconi Miniti, ma non se ne rende conto che se Miniti ha perso è colpa sua che sta antipatico a tutti gli italiani e ancora di più agli elettori del Partito Democratico e probabilmente anche a parlamentari del Partito Democratico stesso, comunque se vuole frantumare quel che resta del Partito Democratico, avanti, problemi suoi. Grazie. Voi sarebbe cambiato qualcosa quella di Missione di Renzi, sarebbe cambiato qualcosa per voi? Quella che è la nostra linea è sempre la stessa, noi siamo aperti nella discussione con tutte le forze. Rimane quindi l'offerta, dialogo con tutti, anche al PD. Ma al PD senza Renzi? Questo è un problema interno al PD.